evento atroce si abbatterà sull'italia portando pianto e lamenti con un cuore gravato e un senso di urgenza la madre addolorata si rivolge a noi portando un messaggio di avvertimento e di speranza in vista di tempi bui che si avvicinano la sua voce carica di amore e di preoccupazione ci invita a prepararci per le sfide che ci attendono la madre celeste ci ricorda che ognuno di noi ha una missione da compiere un ruolo da giocare nel piano di dio per la salvezza del mondo ma non tutti saranno disposti a rispondere a questa chiamata a vivere una vita di fede e di sacrificio per amore di dio e del prossimo leghiamo la profezia aprite i vostri cuori al signore e lasciate che la sua luce penetri nelle vostre anime oscure poiché solo così potrete affrontare le tenebre che avvolgono le vostre vite dio grida per la vostra testimonianza ma non tutti risponderanno al suo appello siete chiamati a una missione che vi condurrà a lungo sentieri oscuri e pericolosi non sarà facile ma è necessario non voglio costringervi ma ascoltate con attenzione le mie parole voglio condurvi verso un destino incerto attraverso le vie tortuose della sofferenza e dell'angoscia siete abbandonati nel vuoto dell'indifferenza umana incapaci di trovare una via d'uscita io sono vostra madre ma anche io sono prigioniera di questa oscurità che avvolge il mondo l'umanità è immersa in una cecità spirituale devastante dovete essere la luce in questo abisso di tenebre ma attenzione perché anche voi sarete avvolti dalle ombre se non rimarrete saldi nella fede pregate davanti alla croce dove il dolore e la sofferenza regnano sovrani vedrete ancora gli orrori che la terra nasconde mostrati nelle loro forme più brutali e spaventose un evento atroce si abbatterà sull'italia portando con sé pianto e lamenti non potrete sfuggire al suo impatto devastante non tiratevi indietro di fronte alla tempesta imminente avanzate con coraggio anche se il terrore vi stringe il cuore grazie a tutti